signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale settimana scorsa per la rubrica delle fondamenta del dungeon abbiamo parlato del concetto di metagioco e di come fondamentalmente sia impossibile organizzare un qualsiasi tipo di gioco di ruolo senza introdurre anche solo involontariamente elementi di metagioco questo però non vuol dire che il metagioco debba essere dato per scontato e non ci debba essere una riflessione da parte del master in realtà anche dei giocatori su quale tipo di metagioco inserire all'interno una quest e perché questa settimana quindi andremo a vedere proprio questo andare ad analizzare vari aspetti di metagioco e vedere quando questi aspetti possano essere fondamentalmente utili per lo sviluppo della quest e quali invece sono deleteri quelli che normalmente vengono chiamati il metagioco positivo e il metagioco negativo iniziamo sottolineando l'ovvio ma ci tengo che questo concetto passi forte e chiaro per quanto nell'uso comune quando si usa il termine metagioco lo si faccia in maniera dispregiativa il metagioco di per sé è un termine del tutto neutro non esiste una forma di metagioco intrinsecamente negativa come non esiste una forma di metagioco intrinsecamente positiva qualcosa che per un gruppo potrebbe essere aberrante per un altro gruppo potrebbe essere perfettamente accettabile se non anche ricercato quale sia la forma di metagioco accettabile quali sia quella non accettabile al vostro tavolo è qualcosa che dovete discutere con i vostri giocatori durante la sessione zero per chi non sa di cosa stessi parlando vi lascio il link qua sopra questa settimana noi ci limiteremo a discutere su come le varie forme di metagioco possano andare effettivamente a influenzare una sessione di gioco ne abbiamo già parlato nello scorso video ma uno degli usi fondamentali del metagioco è quello di risparmiare tempo sulle spiegazioni dando per scontato tutto quello che dovrebbe essere già evidente dalle conoscenze dei giocatori stessi il master non starà a spiegare ogni singolo minimo dettaglio dell'ambientazione e i giocatori non dovranno giustificare nulla dei loro personaggi che non sia già banalmente evidente da tutto l'immaginario che li circonda si utilizzerà il tempo della quest solo per spiegare quelle situazioni di gioco quelle caratteristiche dei personaggi che effettivamente non possono essere comprese senza che sia effettivamente data una spiegazione all'interno della quest allo stesso modo tutti quei dettagli che sarebbero incongruenti se il mondo di gioco fosse effettivamente un posto reale verranno semplicemente ignorati da giocatori e da master per far proseguire la storia le astronavi hanno motori che gli permettono di viaggiare più veloce della luce nonostante questo per la fisica sia impossibile gli elfi vivono in ricche meravigliose città alle profondità dei boschi nonostante sempre non avere nessuna forma di agricoltura o di industria nessuno si rende conto dell'esistenza dei vampiri nonostante ogni città ne abbia dozzine e ci siano continue sparizioni di persone questo tipo di metagioco ha il vantaggio di abbreviare i tempi e fondamentalmente di concentrare la quest su quello che è veramente importante cioè la storia stessa e le avventure che vivono i giocatori molti gruppi però storcono il naso a un metodo di metagame del genere perché fondamentalmente va a ledere la sospensione dell'incredulità se non a lasciare dei veri e propri buchi di trama a seconda del gruppo di gioco potrebbe essere una questione molto importante o totalmente ignorabile uno degli elementi di metagame presenti praticamente in ogni singolo gioco di ruolo è quello che i personaggi sono gli eroi e sono i protagonisti della storia quando il master prepara una quest lo fa nell'ottica che quella sarà l'avventura dei giocatori e quindi tutto quello che succederà in quella quest rivolverà intorno ai personaggi giocanti stessi e allo stesso modo quando il master dice che devono fare una quest i giocatori la intraprendono perché sanno che loro sono gli eroi e quindi sta a loro risolvere tutti gli eventuali problemi del mondo di gioco è un discorso che abbiamo già fatto quando abbiamo parlato della sospensione dell'incredulità vi lascio anche questo video linkato ma fondamentalmente è difficile che nella vita reale voi realmente acquisterete la mappa di un tesoro da uno straniero misterioso incontrato in un bar e nel caso voi aveste una mappa del tesoro probabilmente non vi converrebbe venderla a degli sconosciuti per quanto la quest possa risultare bizzarra i giocatori faranno sempre in modo che per i loro personaggi sia perfettamente normale accettare quel tipo di incarichi e da parte del master qualunque cosa lui progetti la progetterà partendo dal presupposto che deve essere qualcosa che i personaggi giocanti con le loro specifiche abilità possano superare per quanto nella realtà sarebbe molto più probabile che la gente non intraprenda volontariamente delle missioni rischiose e dall'altra parte gli antagonisti tendono a organizzare le cose in modo che gli eroi non possano vincere non che possano vincere facilmente per lo stesso motivo ci si aspetta che tutti i partecipanti al tavolo creino gioco per tutti gli altri quando si parla di creare gioco si intende di fare in modo che tutti i partecipanti abbiano la possibilità di contribuire alla storia e ovviamente di divertirsi mentre lo fanno da parte del master questo vuol dire creare sempre delle storie in cui i giocatori abbiano effettivamente un vantaggio o comunque una possibilità sportiva di vincere e di non bloccarli in delle situazioni senza via d'uscita in cui loro al di là del fatto di non poter andare avanti con la storia non abbiano un modo significativo per influenzarla e da parte dei giocatori stessi significa evitare di mettere i bastoni tra le ruote per delle minuzie nella storia del master ma soprattutto di evitare di mettere altri giocatori nelle condizioni di venire esclusi da qui ci sono tutti gli adagi sul non dividere il party non fare personaggi che potrebbero essere in conflitto tra di loro o semplicemente non fare personaggi che ricoprano lo stesso ambito di altri personaggi costringendo i giocatori fondamentalmente a giocare a turno diciamo che in linea di massima tutto quello che i giocatori e il master fanno per fare in modo che la storia continui a essere interessante per tutti anche se questo non avrebbe così senso all'interno della storia e da considerarsi una forma di paragioco i cattivi non avranno mai una base segreta realmente inespugnabile gli eroi non si rifiuteranno mai di andare a espugnare la base dei super cattivi la forma di metagioco però più sgradita alla maggior parte delle persone è quella di ricordare che il gioco in ruolo essendo un gioco ha comunque delle sue regole e farle presente durante la sessione in questo caso rientrano tantissime situazioni tra i due opposti dei giocatori che fanno le scelte per i loro personaggi non in base a cosa sarebbe più interessante vedere in quest ma in base a qual è il modificatore numerico più appropriato al polo opposto cioè i giocatori che avrebbero anche delle idee interessanti da far uscire in quest ma per qualche motivo sono le stesse regole del gioco a limitarli e impedirgli di farlo per quanto citare esplicitamente le regole possa essere fastidioso per molti giocatori esperti in realtà è una forma di metagioco che può avere anche dei vantaggi soprattutto se al tavolo ci sono dei giocatori o del tutto neofiti o comunque non esperti con uno specifico sistema a cui spiegare esplicitamente che avrebbe senso che il personaggio facesse quell'azione ma invece ne farà un'altra perché ci sono dei motivi regolistici che spingono quel comportamento può essere utile sia per imparare le regole sia per imparare soprattutto le logiche attorno a cui il gioco ruota ovviamente però questo porta a infrangere l'immedesimazione del gioco e per alcuni non è affatto tollerabile e probabilmente la cosa che infrange di più l'immersione del gioco non sono le regole ma l'avere a che fare con i giocatori o piuttosto avere a che fare con i giocatori quando questi non sono presenti alla sessione questa è una situazione tipica del gioco di ruolo che non può capitare in nessun'altra forma di narrazione è appunto che uno dei personaggi potrebbe non essere presente alla storia semplicemente perché il suo giocatore non è potuto venire alla sessione di gioco qui ogni gruppo risolve la questione secondo un suo particolare tipo di metagioco dai gruppi che si limitano a dare la scheda di quel personaggio al master o a un altro giocatore anche se ovviamente il master o un altro giocatore interpreteranno quel personaggio in una maniera sicuramente diversa da quella che l'avrebbe fatto il proprietario e quindi all'interno della storia per un periodo il personaggio agirà in maniera diversa o agirà il meno possibile perché in realtà verrà mosso solamente durante i combattimenti all'estremo opposto cioè che quando il giocatore non è presente il personaggio si smaterializza nel nulla nessuno si accorge di niente tutto è normale il personaggio poi si rimaterializzerà come se fosse sempre stato lì e nessuno trova la cosa incondruente che diciamo che è il modo migliore per preservare la sospensione dell'incrudeluità ma è un altro di quei casi in cui semplicemente si evita di portare attenzione su quello che effettivamente è un elemento incongruente della storia anche in questo caso troverete ferventi sostenitori sia di una scuola che dell'altra questa è una delle questioni che devono proprio essere decise in sessione zero per evitare che ci siano problemi più avanti naturalmente questa non vuole essere una lista esaustiva le forme di metagioco probabilmente sono infinite diciamo che queste sono quelle che io personalmente nel corso degli anni ho visto verificarsi più frequentemente ai tavoli ovviamente adesso sta a voi fatemi sapere nei commenti quali sono secondo voi gli aspetti del metagioco più importanti da decidere prima inizio della quest e quali sono le forme che sicuramente aiutano il gioco o sicuramente lo danneggiano secondo voi come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate sulla campanella se volete ricevere le notifiche io sono il Master CAE noi ci vediamo nel prossimo video